Manca ancora quel punticino importante. Sì, sicuramente un po' di emozione sala perché siamo consapevoli dei nostri mezzi e quindi sappiamo di dover andare a fare una partita dura, però speriamo di tornare vincitori. Come sensazione sicuramente, ripensando un po' a tutto il percorso, mi emoziono anche un po' perché ricordare come siamo partiti nel 2009, poi gli anni di prima categoria, la vittoria del campionato di prima categoria, i tre anni di promozione con i due playoff persi, e insomma è un po' il coronamento di un sogno e quindi il raggiungimento di una categoria che ci consente di sederci a tavolino e programmare con molta più serenità rispetto agli ultimi anni. Quindi un campionato di promozione che teoricamente potrebbe andare in archivio, anche perché lo ricordo sempre, in tutte le interviste, in tutte le volte che faccio qualcosa riguardo la promozione, il presidente Madona ha sempre rifiutato il ripescaggio, ha sempre voluto vincere il campionato, ci è riuscito, quindi la caparbietà oltre che all'organizzazione è la cosa principale. Sì, guarda Franco, per pura casualità mi sono trovato a rivedere un po' i video delle interviste che mi hai fatto stesso tu, una proprio qui mentre facevamo i lavori al campo l'anno scorso, e per due volte mi hai fatto la stessa domanda sia l'anno scorso che due anni fa, cioè perché avete rifiutato il ripescaggio di questa nostra scelta. Io penso che vincere sul campo abbia tutto un altro sapore e un altro valore perché la gente non ti ricorda per il ripescaggio, ti ricorda per le vittorie e questa è una cosa importante, penso che chiunque dovrebbe fare così. E' vero che vincere i campionati non è semplice, la strada seconda quando si ha l'opportunità di fare il ripescaggio è sempre molto più facile, soprattutto se le conoscenze giuste. Però vincere sul campo ha un altro sapore, un'altra emozione, è diverso, è completamente diverso. Siamo con una battuta sul Montesaccio città, Montesaccio a tifo, Montesaccio, quelli che verranno, si è riusciti a destare finalmente dal torpore il tifoso del Montesaccio? Perché Montesaccio è stato sempre il nostro tifoseria. Ma guarda, noi dobbiamo fare una piccola differenza, dobbiamo distinguere il tifo organizzato da tutta la tifoseria. Noi il seguito l'abbiamo sempre avuto, anche quest'anno, insomma, le partite, è chiaro che anche in Serie A, se vediamo una partita che è un test a coda, ci va meno gente al campo. Quando vediamo magari lo scontro più di cartello tra la prima e la quarta, tra la prima squadra di metà classifica, magari ci sono più presenze. Noi il nostro seguito l'abbiamo avuto e infatti non smetterò mai di ringraziare chi ci ha sempre sostenuto, anche durante l'anno e durante il corso dell'anno. E quindi sono contento che potranno festeggiare con noi. Certo è che rispetto agli altri anni di entusiasmo ce n'è un... non meno, però è un entusiasmo diverso. Perché questa non abbiamo come tutti, ormai è noto, non abbiamo avuto purtroppo la tifoseria organizzata. E' un'altra cosa con la tifoseria organizzata. Infatti chi è che organizzò la festa tre anni fa per la vittoria del campionato di prima categoria fu il gruppo dei MIM che organizzarono tutta la festa, la sfilata. Fu una cosa emozionante, insomma, fu molto bello. Poi è chiaro, sicuramente ci aspetteremo che... di festeggiare, sicuramente troveremo gente sul carro dei vincitori che magari non ci ha mai seguito per tutto l'anno. Però, insomma, a chi ci ha seguito va il mio ringraziamento e la dedica per questa vittoria alla fine. È chiaro che non ancora abbiamo vinto, rimanevamo sempre con i piedi per terra, però, insomma, veramente manca un passo. Qualcuno magari non se le aspetta, quelle parole che sto per dire, però mi vado a dedicare questa vittoria anche al tifo organizzato che è mancato quest'anno. Però nel corso dei cinque anni, perché io devo ricordare tutte le tappe, nel corso degli anni non ci hanno mai fatto mancare il sostegno, mai. Questo è stato il primo anno e ovviamente non per problemi nei confronti, noi ci siamo anche confrontati con loro, non per problemi nei confronti, come si dice, nei confronti del Presidente, o nei confronti della squadra, o nei confronti di qualche giocatore. Alla fine, se le loro motivazioni sono giuste, è sempre facile che due o tre organizzano e poi, diciamo, gli altri cinquanta seguono a ruote. La cosa più brutta è che per cinque anni questi ragazzi, in mezzo alla strada, dalle persone, sono stati martoriati. Le hanno offesi, hanno detto che loro erano il male di questa società. Le stesse persone che poi, vado a leggere sui social network, e dicono, no ma ci mancate, ma non ci mancate, perché non vi organizzate. Allora, purtroppo questa è una cosa classica, cioè chi critica, se fai una cosa di critica, se fai il contrario ti critica lo stesso. Quindi mi va di ringraziare loro e di dedicarla anche a loro, questa vittoria, perché comunque in cinque anni hanno fatto sacrifici che nessun altro ha fatto. Quindi è giusto dedicarla anche a loro.